ciao amici ricaricatori benvenuti sul bunker wild canale che si occupa di ricarica della canna liscia e lo fa valendosi di prove strumentali di prove in canna manometrica oggi vedremo un assetto particolare in calibro venti che è frutto di uno studio su una polvere specifica che comunque è un assetto valido valido per l'uso venatorio assetto che andremo a scoprire dopo la sigla rieccoci di nuovo insieme pronti a scoprire l'assetto che alex ha formulato e bancato per noi si tratta come vi ho già detto di un assetto particolare di un assetto in calibro venti un assetto che nell'uso venatorio si può impiegare per quelle cacce al limite del calibro quindi perché per quelle cacce impegnative come può essere ad esempio la caccia alla lepre per questo assetto abbiamo utilizzato una borra che dite ve la presento perché è la prima volta che utilizziamo questo tipo di contenitore una borra che dite un aquila h25 una borra che di solito nel calibro venti viene usata per lanciare dai 19 ai 22 grammi una borra abbastanza alta che però oggi la impiegheremo per 30 grammi di piombo numero 3 pure nichelato e in che modo faremo utilizzando un bossolo magnum quindi l'assetto che oggi andremo a vedere sarà un assetto magnum in calibro venti si è scelto di utilizzare un bossolo che dite da 76 con innesco cx 1000 la polvere che alex ha utilizzato per questo assetto che come ho detto già prima è frutto di uno studio della conseguenza di altri assetti che abbiamo visto all'interno del canale sempre in calibro 20 vi ricordo la 27 grammi la 28 grammi avete capito già di chi sto parlando sto parlando della magnificenza assoluta della sipe che pare dalle prove non avere concorrenza cioè parliamo di una di una polvere che nel momento in cui sto girando questo video vi assicuro che è ritornata disponibile è una polvere che ad un prezzo elevato ma che se consideriamo le caratteristiche di questa polvere le capacità di caricamento che ci offre no quindi il range di caricamento che ci offre e le prestazioni che ci offre paragonando il costo ad altre polveri diciamo che poi non è così esagerato visti i prezzi del momento quindi non andiamo a fare paragoni con il costo di qualche anno fa ma ultimamente è tutto aumentato dalla componentistica arrivare fino fino alle polveri quindi si è utilizzata questa polvere per fare un caricamento magnimo noi se vi ricordate nel calibro 20 siamo arrivati ai 27 28 grammi in bossolo 70 in orlo tondo mentre in questo assetto siamo passati al bossolo da 76 grazie alla elasticità di questa polvere le prestazioni che ci che ci offre che non è assolutamente una polveretta come qualcuno l'ha definita nei commenti polveretta facendo il paragone con con altre polveri non italiane con altre polveri più recenti che a dir suo nettamente superiore alla sipe quando nel diciamo suo range di caricamento nel range di caricamento questa polvere sinceramente non ho trovato polveri che riescono a ad avere queste prestazioni e con questa elasticità questo logicamente resta un parer mio che poi alla fine è anche suffragato dal dai dati banco che che alex ci ha fornito e quindi tralasciamo quindi lasciamo andare ci lasciamo scivolare addosso alla sipe si lascia scivolare addosso tutte le brutte cose che gli vengono attribuite che gli vengono dette polveretta definire la sipe la polveretta è qualcosa di impressionante ma veramente di impressionante allora direi che siamo pronti a vedere l'assetto che come vi ho già detto imposte lo che dite da 76 mm con innesco da 75 e 76 con innesco CX1000 la quantità di sipe utilizzata è di un grammo e 25 quindi impiegheremo attenzione questo memorizzatelo memorizzatelo bene impiegheremo un grammo e 25 per spingere la quantità di piombo che poi vi dirò in seguito un grammo e 25 di sipe il contenitore come vi ho già anticipato è un'aquila un che dite aquila h25 quindi rimaniamo sulla che dite sia per quanto riguarda il bossolo che per quanto riguarda il borraggio il contenitore allora per arrivare a un giusto livello di quota per effettuare la chiusura stellare all'interno di questo contenitore dovremmo mettere un sugherino da 3 mm il sugherino che va perfettamente all'interno del contenitore è un sughero calibro 32 il sughero calibro 36 ci va leggermente largo mentre il calibro 28 leggermente stretto il sughero il suo proprio quello che va a misura è del calibro 32 quindi se avete se non l'avete pigliatelo c'è un sugherino all'interno calibro 32 adesso scopriamo invece la quantità di piombo che alex ha provato in questo assetto che sono ben 30 grammi di piombo numero 3 nichelato quindi un pallino del 3 nichelato che ci permette di utilizzare questa cartuccia a caccia per i tiri impegnativi per i tiri veramente impegnativi tiri che possono essere esempio per la caccia alla lepre cartuccia che la vedo bene impiegata per quelle cacce impegnative come sono la maggior parte delle cacce di montagna allora ho detto 30 grammi di pallino del 3 nichelato la cartuccia poi andrà chiusa in stellare ad una quota di 66 mm si presenta come questa cartuccia questa è una vecchia cartuccia che abbiamo visto all'interno del canale un'altra magnum caricata con m92s se non mi sbaglio non ha 34 grammi quindi andatevelo a trovare nella playlist del calibro 20 nei video playlist calibro 20 troverete anche questo assetto 34 grammi caricato con m92s se non mi sbaglio in questo caso abbiamo 30 grammi caricate con sipe con solo un grammo e 25 di sipe allora vediamo cosa questa cartuccia è riuscita a dare vi ricapito logicamente come al solito l'assetto calibro 20 76 bossolo che dite con innesco cx mille sipe lotto 1 22 in dose di un grammo e 25 contenitore borre che dite aquila h25 con all'interno 3 mm di sughero del 32 per 30 grammi di piombo 3 nichelato cartuccia chiusa in stellare ad una quota di 66 mm vediamo i valori medi della prova in canna manometrica partendo dal tempo di canna che ha un valore medio di 2700 microsecondi per passare alla velocità misurata due metri e mezzo dal vivo di volata su canna cilindrica che è di 390 metri al secondo quindi parliamo di una velocità misurata ad un metro dal vivo di volata superiore a 400 metri al secondo quindi 30 grammi a più di 400 metri al secondo cilindrico cilindrico di velocità ad un metro dalla bocca dal vivo di volata con una pressione media di 887 bar pressione la cartuccia magnum che ha un limite per quanto riguarda le norme fino a 1050 bar e abbiamo poi un delta cioè la differenza tra il colpo minimo e il colpo massimo parliamo un delta pressorio di 95 bar con un sd una deviazione standard di 43 bar qui cartuccia che nonostante il tipo di caricamento riesce e riesce ad avere come solo la sip sa fare anche una buona costanza tra i colpi questo assetto che abbiamo visto nella dose di 1 e 25 per 30 è stato provato è stato provato anche con 500 grammi in più di polvere quindi stesso identico assetto però con 1 e 30 per 30 e ne uscita una cartuccia con una velocità due metri e mezzo di 400 e 4 metri al secondo e una pressione media di 953 bar quindi diventa aumentando di 500 grammi sia un assetto molto più corposo a livello di pressione un assetto con più prestazioni però un assetto che è al limite dei 1000 bar quindi un assetto che magari potrebbe essere utilizzato con delle giornate particolarmente fredde ok però noi abbiamo scelto di portare sul canale la versione con 500 grammi in meno poiché ha delle pressioni diciamo più contenute ok è comunque sempre una cartuccia bella corposa come deve essere una cartuccia magnum considerate che anche lo stesso assetto si poteva cambiando innesco passando magari con 684 si poteva fare con un aumento della dose quindi della dose polvere piombo e molto probabilmente si si proverà anzi fatecelo sapere nei commenti se vi interessa vedere qualcosa del genere anche perché vi ripeto le polveri sono ritornate disponibili quindi si può fare qualche altro studio sulla magnificenza di questa polvere alla fine della giostra alla fine della giostra di questo studio che alex ha fatto sulla sulla sipe con il calibro venti è uscita una cartuccia di ben 30 grammi lo ripeto i ben 30 grammi con una ottima velocità spinta da una polvere da una polvere eccezionale come la sipe a 390 metri al secondo di v2 e mezzo con soli un grammo e 25 di polvere bene sempre specificarlo perché sono poche ma veramente poche le polverette che riescono a fare queste cose che riescono ad avere queste prestazioni con con così poca polvere e a contenere anche le pressioni grazie proprio alla elasticità data da una doppia base pura così com'è la sipe quindi speriamo che riusciremo a trovare sempre disponibile queste polveri così la sipe come può essere s4 e noi con i nostri video con le nostre bancature cerchiamo di dare il giusto valore che polveri come come la sipe sinceramente si meritano detto ciò vi invito a provare questo assetto che ricordo essere magnum quindi va utilizzato nei fucili con camera 76 nei fucili magnum per quelle cacce impegnative che volete affrontare con un calibro 20 la cartuccia a tutte le caratteristiche per essere una cartuccia di sicuro successo arrivederci alla prossima puntata sempre sul book ciao